Ben ritrovati a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio mostrare, come dice il titolo per sommi capi, cosa ho cambiato dopo l'installazione del nuovo Ubuntu Passate ormai qualche settimana dall'installazione mi sembra giunto il momento giusto per presentarvi un po' cosa ho cambiato, cosa ho impostato in modo conciso sul mio PC la premessa naturalmente è avendo già usato Unity in VirtualBox prima della vera installazione e avrete visto anche in alcuni miei video precedenti nei quali vi presentavo o vi spiegavo qualcosa direttamente in questa VirtualBox già con Ubuntu 12.04 dunque avendo già spesso usato il nuovo sistema nella VirtualBox quando ho installato non ho avuto nessuna difficoltà di ambientamento con Unity e non Unity perché naturalmente mi ero già abituato nei mesi precedenti all'uso di questa nuova interfaccia comunque vi voglio presentare concisamente i cambiamenti che io ritengo i più significativi che ho fatto dopo l'installazione a nuovo quindi ovvio voi installate Ubuntu da zero proprio nuovo e vi trovate con le scelte fatte da Canonical diciamo dagli sviluppatori e da chi decide cosa mettere o meno nel CD di installazione o nella chiavetta USB diciamo per essere più moderni più aggiornati e quindi certe scelte a voi possono anche non non piacere oppure non essere di vostro gradimento o essere comode come voi come voi desiderate con altri prodotti o strumenti ecco quindi nel mio caso ho fatto quanto segue e non ve lo presento per per nessun motivo particolare se no magari dare degli spunti interessanti anche a voi ecco come confrontarsi sulle varie impostazioni che i diversi utenti possono fare queste sono le mie voi potete segnalare le vostre e combinando le idee si ottiene poi il desktop ideale di ognuno penso io ecco allora partiamo ho tolto Firefox e messo Chromium come come browser internet che è poi questo che vedete qua dietro eccolo qua Chromium perché mi ero già abituato prima già ancora con Ubuntu 10.04 a usare Chromium lo trovo rapido comodo soprattutto molto pratico anche con la sincronizzazione con l'account Google eccetera eccetera molto ben integrato e quindi ho fatto la mia scelta a un certo punto sono passato da Firefox a Chromium ho dovuto togliere Firefox perché tuttora tutt'oggi in Ubuntu Firefox è il browser per difetto cioè quello che ci troviamo installati dopo l'installazione quindi questa è la prima cosa che ho fatto ecco mi sono messo qui una piccola nota a mostrare le estensioni perché magari qualcuno può interessare anche questo strumenti estensioni che sono quei modulini aggiuntivi che ampliano le funzionalità di un browser ci sono anche in Firefox ci sono quindi anche in Google Chromium la differenza fa Chromium e Chrome che si trova più spesso sotto Windows l'ho già spiegata in un video precedente quindi date a vedervi quello in ogni caso è praticamente più o meno la stessa cosa quindi io parlo di Chromium perché è la versione open source del browser di Google allora le estensioni quindi per darvi magari qualche spunto io ho installato il Chrome Remote Desktop Beta che è quell'estensione che permette di connettersi ad un altro PC e controllarne il desktop tipicamente per dare aiuto ad un utente magari in difficoltà se anche quell'utente ha Chromium o Chromium installato con questa estensione può fare in modo che per esempio io se sono io quello che deve dare aiuto possa accedere al suo desktop quindi vedere il suo schermo e spiegargli o mettergli a posto il problema insomma ecco aiuto da remoto diciamo e anche viceversa ovviamente avendo installato questa estensione io posso chiedere a qualcuno di entrare nel mio desktop per vedere qualcosa e aggiustare qualcosa che non funziona o spiegarmi qualcosa voilà quindi interessante utile direttamente dal browser in Ubuntu dire la verità c'è un programma un paio di programmi Remina credo Remina si chiama qualcosa così quindi c'è a livello client quindi a livello del PC ci sono già dei programmi preinstallati per fare queste operazioni remote però indubbiamente questo è più immediato è direttamente dentro nel browser internet quindi senza aggiunte particolari di altri programmi sappiamo che è disponibile qua direttamente che ormai sempre più il navigatore internet è il programma sempre acceso più usato sui PC e quindi è comodo avere questa estensione direttamente nel browser quindi questa è una che mi sono messo scelta un'altra che ogni tanto mi capita di usare è Chrome to Phone Extensions quindi con questa estensione che poi si presenta con quell'icona qui in alto a destra la vedete qui che simboleggia uno smartphone permette di mandare al mio telefono Android dei link o altre cose quindi per esempio io sono su una pagina interessante web che voglio salvarmi o vedermi più tardi sul telefono sono posizionato su questa scheda su questo sito clicco qua il telefonino l'icona e lui mi manda via etere diciamo così manda sul mio telefono Android che ovviamente essendo Android è connesso anche lui al mio account Google quindi telefono e PC in un certo senso sono collegati sono allacciati cliccando questa icona mi manda il link il link della pagina che mi interessa al telefono anche questo non lo uso spessissimo però carina è lì Linux native notification questo è l'estensione che ho installato più di recente recentemente quella che sostituisce le notifiche native di Chromium cioè per esempio arriva un mail avete presente che viene fuori qui in basso solitamente in basso a destra una piccola finestrella una notifica appunto con su guarda che ti è arrivato quel tal mail ecco questo Linux native notification permette di sostituire quelle notifiche native con il sistema di notifiche del sistema operativo nel quale sta andando sta è aperto scusate non trovavo l'espressione giusta è aperto Chromium in questo momento allora io sono su Ubuntu 12.04 che ha il suo sistema di notifiche che escono in zona solitamente qui in alto a destra e grazie a questa estensione adesso se arriva un mail non è il caso in questo momento quasi peccato didatticamente parlando comunque arriva un mail e esce qui e non più in basso con le notifiche grafica Chromium ma grafica Unity diciamo così ecco notifiche Google Plus è crea questo pulsante qua in cima anzi scusate questo dove se mi arrivano dei messaggi delle iscrizioni le mie cerchie Google Plus e queste cose qui viene fuori il numerello 1,2,3,4 ecco che è poi quello un po' che appare anche qui per esempio pagina di Google Plus appare qui questo numero è identico a questo qua sopra tanto che se non sono posizionato direttamente sulla pagina di Google Plus ma sto navigando in tutt'altri siti almeno qui ho la segnalazione che guarda che ti è arrivato qualcosa una notifica Google Plus Pasteur questo invece lo uso tantissimo Pasteur è un modo sicuro di gestire le password per accedere ai vari siti internet che si navigano durante la giornata e si presenta con questa P e una specie di asterisco qui e voi dovete gestire o meglio tenere presente una singola password principale e dentro c'è un archivio password gestito e salvato come potrete andare poi a leggere nei dettagli sul web store e quindi vi permette poi navigando nei siti dove ci sono i campi user e password di completarli automaticamente senza dover tenere a mente le varie password e poi accedere automaticamente ecco tutte queste estensioni naturalmente hanno la loro descrizione dettagliata nel web store che è poi questa icona qui questa se entrate nel web store potete andare a cercare le estensioni che vi sto facendo vedere se vi interessano ovviamente e vedrete tutti i dettagli non sto qui spiegarvi né i dettagli di funzionamento né niente vi spiego lo scopo di ognuna se vi interessa andate a vedere andiamo avanti il pulsante più uno ecco anche questo il pulsante più uno permette di dare un più uno in ambito google plus quindi la rete sociale di google da qualsiasi su qualsiasi pagina ci si trovi senza necessariamente essere appunto un google plus o in una pagina specifica o se il sito non ha questo pulsante nelle sue pagine non lo prevede grazie a questa estensione che fa apparire il g più uno qua in cima l'iconcina qua la vedete qua alto a destra potete fare più uno su qualsiasi pagina sia che prevedano il pulsante più uno sia che non lo prevedano poi il scroll top bar ecco questa qui è un'estensione che permette di tornare in cima un po' come nella pagina google plus ecco vi faccio vedere quindi se io pagino nella pagina google plus guardo i vari post i vari post pubblicati dagli altri poi sapete che cliccando sulla barra nera qua in cima si torna automaticamente in cima ecco questo succede in ambito google plus ma non succede non succede su tutte le pagine ecco se c'è una pagina che viene paginata in su in giù adesso vi mostro l'effetto ecco vi mostro l'effetto di questa estensione dunque scroll up quindi vedete che questa pagina di youtube la pagina principale di youtube se io scorro il contenuto che è molto lungo vedete che appare come un'ombra qua in cima ecco questa è il lavoro di quell'estensione che vi ho fatto vedere cliccando con il mouse su quell'ombra si ottiene lo stesso effetto che nella pagina google plus quindi potete aver paginato per un quarto d'ora fino in fondo ma per tornare in cima cliccate in quella zona d'ombra e vi torna in cima automaticamente questa è quell'estensione qua scroll up scroll to top bar e l'ultima vabbè questa diciamo che non è proprio indispensabile l'ultima è ubuntu 1 che poi fa apparire l'icona di ubuntu 1 direttamente qui sulla nuova scheda e cliccando qui accedo o meglio mi si presenta la pagina di login per entrare nel mio conto ubuntu 1 che è la mia nuvola personale in rete di ubuntu specifica di ubuntu ecco questa è una cosa diciamo che chi usa come me ubuntu 1 come mezzo di backup e di sincronizzazione dei dati può magari far comodo avere lì subito nella nuova scheda un'icona ubuntu 1 invece di salvarsi il link come qua sopra per andare in ubuntu 1 e poi la stessa cosa non è assolutamente indispensabile diciamo che quelle che possono interessare di più genericamente a tutti sono le prime a parte l'ultima sono queste qua se vi interessa e questa era capitolo browser poi ho tolto thunderbird che è il client cioè il programma residente sul pc per gestire la posta installato gnome gmail ho tolto thunderbird perché io ormai da anni gestisco la posta solo via gmail quindi solo via web e non mi serve è inutile superfluo per me nella mia situazione avere un programma installato sul pc per fare questo quindi ho tolto appunto thunderbird che arriva già installato è già installato di partenza e ho messo gnome gmail gnome gmail lo troviamo nell'ubuntu software center ve lo faccio vedere ho scritto spagliato gnome gmail e vedete qua il titolo è integra gmail con il proprio desto quindi è proprio quello che a me serviva io usando gmail solo via web ho quindi installato questo pacchetto il quale pacchetto si integra appunto adesso vi faccio vedere come se entrate nelle impostazioni di sistema ripeto qui in alto a destra impostazioni di sistema e cliccate sull'icona dettagli applicazioni predefinite vedete che non c'è più thunderbird ma c'è gnome gmail questo vuol dire che qualsiasi link di mail contatto qualcosa anche il di fuori e soprattutto il di fuori del browser quindi per esempio se io faccio un invia e dico invia via mail quindi qui sono fuori da chromium fuori dal navigatore web e metto qui un indirizzo email faccio invia non ho più il programma residente sul pc per crearmi il messaggio di mail ma facendo invia mi si apre una scheda in chromium direttamente con l'indirizzo mail e il messaggio gmail quindi direttamente sul web ecco quindi questo quello che vi ho fatto vedere gnome gmail quindi quel pacchetto gnome gmail permette questa integrazione quindi anche di fuori dell'ambito web strettamente web di chromium permette di ottenere un'integrazione molto pratica direttamente con gmail sul web anche dal desktop anche dal vostro pc poi ho aggiunto oltre a quelle che appaiono direttamente dopo l'installazione ho aggiunto alcune lanes nella dash che mi sembrano carine interessanti utili o comunque stabili anche con l'ultima versione di Ubuntu e utilizzabili alcune sono già presenti nei repository quindi direttamente in Ubuntu Software Center senza fare nulla altre sono disponibili solo aggiungendo i PPA cioè i repository di pacchetti aggiuntivi di cui ho già parlato in video precedenti ecco vi ho già parlato anche come si aggiungono come si aggiorna l'Ubuntu Software Center quando si aggiungono questi pacchetti eccetera andate a vedervi qualche video precedente e troverete cosa vi serve per capire cosa sono i PPA e come usarli comunque detto ciò l'ins quindi apro la mia dash e vi mostro cosa ho aggiunto quindi quelle standard giusto per intenderci sono la casettina ovviamente questa che è quella delle applicazioni questa che è quella dei documenti questa che è quella della musica e questa che è quella del video tutte le altre le ho aggiunte io successivamente la prima non si vede con la sua icona ma è una lens che agisce solo qui a livello di casetta ed è quella che per esempio gestisce una calcolatrice quindi se io scrivo un calcolo 99 per 3 vedete che appare il calcolatore questo è il lavoro di una lens che sta dietro e che agisce a livello di casettina principale qui di home della dash questa è la calcolatrice stessa lens agisce anche mostrandovi le temperature il vento e il tempo e la mappa di una località quindi informazioni meteo e mappa di una località per esempio se scrivo Locarno città vicino a me scrivo Locarno vedete Locarno Switzerland questa qui è la mappa questo è l'orario che ora è adesso la temperatura sia Fahrenheit che Celsius e la velocità del vento attuale quindi orario condizioni meteo e qui la mappa se facciamo clic sulla mappa dovrebbe aprirsi ed è quello che sta facendo Google Maps nel browser con la presentazione di dove si trova Locarno appunto la località vedete perfetto e questa era la lens diciamo che non è direttamente visibile con ecco direttamente visibile perché diciamo tra virgolette è nascosta sta dietro una lens informativa che sta dietro la casetta poi questa qui magari ne parlo un'altra volta per conto su lo lasciamo perdere per il momento passiamo a questa che è una specie di pentolo o piatto con una posata e appunto è un cerca ricette cerca ricette è una curiosa lens che permette inserendo che ne so pollo di mostrare ricette che hanno a che fare in un modo o nell'altro col pollo vedete Pamplonas de pollo pollo al curry pollo fritto in voltini di pollo voi potete cercare anche in italiano diciamo che questa lens fa capo a un sito principalmente in inglese quindi potete cercare chicken invece di pollo però c'è anche una parte una fetta una bella fetta già in italiano quindi io ho cercato pollo e vedete che ha qualcosa trovato questa è una lens curiosa ma anche utile se uno non sa cosa farsi a pranzo a cena o che so io magari questa lens aiuta quindi cerca ricette altra lens non standard è l'ask ask ubuntu che in realtà cerca nel sito di domande risposte ask ubuntu ma vedete che anche in molti altri siti vedete tantissimi siti di domande risposte o dove si hanno informazioni particolari qui si può cercare quello che si vuole quello che si ha bisogno se si è in difficoltà con qualcosa di tecnico che ne so i driver grafici è nvidia di cui ho appena parlato nel video precedente si cerca nvidia e vedete si parla di kernel module nvidia grafica live cd roba tecnica quindi voi mettete una parola o una frase una domanda e qui vi mostra le varie risposte o suggerimenti che ha a che fare con la vostra domanda carino e utile anche questo poi questo è uno standard questo con la un po' grafica è appunto una lens che vi permette di cercare oggetti grafici che possono essere di design palette di colori icone e pennelli per Gimp vedete e qui potete filtrare se io ho bisogno di una certa icona magari anche da assegnare a un mio applicativo o voglio cambiare un'icona più carina per un applicativo per esempio io cerco che ne so dvd e vedete che qui nelle icone mi appaiono varie possibilità di cd insomma di formato dvd cd ecco io scelgo che so questa qui classico con scritto dvd se faccio clic si apre nel browser l'immagine proprio del dd qui posso salvarla per esempio trascinarla da qualche parte o con l'estensione che vi ho fatto vedere prima mandarmi l'indirizzo di questa immagine al telefono per esempio vedete tasto destro google chrome to phone giusto per farvi vedere oppure clicco il mio telefonino qui me lo mando al telefono eccetera vedete carina anche questa può essere utile e voilà poi c'è ancora una questa che è quella di guibber cioè il guibber è poi il programma installato per difetto qua dei social network con il quale potete raggruppare la gestione di twitter facebook identica e non ancora google plus ma arriverà per il momento non c'è ecco qui c'è una sua lens guibber quindi direttamente nella dash andate qui vedete che ci sono per quale anche una mia risposta su un commento youtube ecco che guarda caso appaio proprio io qua in mezzo a tanti altri e qui vedete suddivise per messaggi vedete di tutti quelle quali io o twitter o facebook o identica sono iscritto e seguo mi arrivano tutti i messaggi dei loro post le immagini suddividi anche per immagini risposte video collegamenti eccetera eccetera quindi questo è legato a guiber zona social network poi la musica c'era già questa è una lens di recall di cui parlo proprio di recall lo cito un attimino più sotto comunque questa è la sua lens che permette le ricerche ma mi ricollego un attimino dopo quando parlo di recall poi questo con la stessa icona di transmission è il è la lens che vi permette di cercare i torrent quindi poi facendo un click su un torrent si apre transmission per scaricare il file legato a quel torrent qui potete cercare i torrent insomma quello che volete scaricare per esempio che ne so qualche episodio di french un french o naturalmente non solo serie televisive film e altre cose ma immagino che provo vediamo un po' se qui mi trova magari le immagini no non trovo ubuntu trovo magari qualcosa secondo tentativo no non trova niente fa niente comunque vi ricordo che i torrent non sono solo per cose illegali ma naturalmente sono sfruttati anche per scaricare per esempio le immagini di Ubuntu non è stato il caso qui perché credo che il sito torrent che ci sta dietro non riporta quei tipi di file però ecco giusto per far vedere che funziona può essere carino e comodo anche direttamente cercare i torrent qui e non necessariamente in rete con il vostro browser poi questa lens dei video è già standard e l'ultima e questa è quella di wikipedia che probabilmente è comoda lo cerco magari torrent ecco vedete torrent ci sono 12 risultati da qualche parte torrent ci sarà poi anche l'articolo che spiega cos'è un torrent eccolo qua torrent file vedete e interessante di questa lens per esempio è che lui si posiziona già secondo la lingua del sistema quindi qui vedete sono articoli di wikipedia in italiano non quelli in inglese non è male quindi si fa click anche qui il sistema è sempre quello su link torrent l'estensione ve lo la vi spiega con la wikipedia in italiano ecco queste sono le lens che io mi sono installato allo stato attuale ce ne sono altre che poi io non trovo di nessuna utilità ne arriveranno delle altre in futuro comunque per il momento sono queste poi analogamente alle lens trovo utili ho trovato utile aggiungere alcuni indicatori quali indicatori sono quelle che stanno qui nella zona in alto a destra e poi si estendono verso sinistra nel pannello qui in alto vedete alcuni naturalmente sono già presenti come questi ovviamente per difetto all'installazione questi qui sono tutti già presenti durante l'installazione alcuni li ho aggiunti perché li trovo molto comodi uno di essi il primo è questo per esempio quello che mi fa vedere il carico della cpu qui in celestino cioè quanto è occupato il processore la memoria questa qui in verdina memoria e il traffico di rete cioè internet in scarico e in carico quindi in uscita in entrata e vedete qui sotto riportate in cifre quindi cpu memoria rete giù rete su e altri dati sui disco che sta scrivendo o meno eccetera eccetera poi in più c'è anche molto utile trovo molto pratico invece di andare a cercarlo il monitor di sistema si può aprire direttamente da qui si fa click e il monitor di sistema vedete si apre molto pratico ecco già come con le lens alcuni di questi indicatori sono nei repository come questo che se non erro è uno di quelli che lo troviamo già nei repository standard di ubuntu altri bisogna aggiungere anche qui dei ppa aggiuntivi per poterli trovare ecco quindi questo qui è quello di carico di sistema che si chiama system load indicator credo che lo troviate già nei repository normali l'indicator del calendario ve lo faccio vedere qui proprio per dico non è che io abbia chissà quali appuntamenti segreti però invece di aprirlo questo qui nella realtà vi ho fatto un piccolo screenshot giusto per far vedere che cosa permette questo è il calendar indicator che si trova in un ppa aggiuntivo quindi dovete andare a cercare calendar indicator fra i ppa e lo troverete quindi non è o non è ancora nei repository standard di ubuntu comunque molto molto pratico questo perché perché vi permette di agganciare senza avere un programma di posta come thunderbird installato vi permette di agganciare il vostro calendario google un vostro calendario google lo agganciate con questo indicator e se fate click sull'icona questa qui se fate click sull'icona vi fa vedere i primi mi sembra dieci i più vicini nel tempo dieci appuntamenti e ovviamente se ne avete inseriti altri nel futuro qui non ve li fa vedere vi fa vedere solo la fetta dei più vicini e man mano scorre nel tempo ovviamente vi fa vedere i più vicini con la data l'ora e la descrizione vedete ho lasciato per esempio le feste pentecost l'unico corpus domina le varie feste che noi abbiamo qui da noi ho nascosto i miei appuntamenti effettivi comunque avete capito il principio quindi ora descrizione e data qui in ordine crescente se voi cliccate qui sull'opzione mostra calendario vi fa vedere un calendario un po' come quello di nome qui un calendario normale con tutti i giorni del mese e in grassetto i giorni dove avete degli appuntamenti e potete vederli anche lì nel calendario molto molto utile un'altra aggiunta che ho fatto e che questo è dentro nei repository ufficiali è quello delle previsioni del tempo con vedete qui mi fa vedere la temperatura e il sole l'acqua le nuvole la notte il giorno quando c'è fate clic qui e vedete che potete aggiungere una o più località di cui una è quella attiva in questo momento quindi dove vi trovate in questo momento per esempio fate clic così avete le previsioni del tempo e la situazione meteorologica del posto di dove siete se no se vi spostate fate clic su altri posti e vi fa vedere appunto le temperature l'umidità il vento eccetera eccetera e cliccando qui su forecast che stranamente è l'unica voce non tradotta in italiano fate forecast vi fa vedere una finestrella con le previsioni dei prossimi giorni con le concine significative massima o minima temperature eccetera eccetera molto comodo anche questo un altro indicatore che non è ancora nei repository ufficiali o nella datazione ufficiale di Ubuntu One è questo qui con la nuvoletta ubuntu One che vi presenta alcune opzioni utili per aprire direttamente per esempio la cartella di Ubuntu One o il sito web di Ubuntu One o il pannello di controllo potete gestire tutto da qui file pubblicati di recente eccetera eccetera e poi qui vi fa vedere lo spazio libero che avete ancora sulla vostra nuvola personale e lo stato quindi se sta caricando o scaricando file questi messaggi cambiano se no sincronizzazione completata eccetera e a posto lì che è tutto sincronizzato per avere un'indicazione senza dover andare ad aprire il pannello di Ubuntu One tutte le volte per dire cosa sta facendo o no avete un'indicazione qui sull'iconcina che cambia se sta caricando vengono fuori le freccette che girano in circolo eccetera eccetera ultimo indicatore è quello delle notifiche quindi quando arriva un mail quando c'è un messaggio di chat un messaggio di qualsiasi tipo del sistema qualsiasi tipo che venga fuori come notifica qui in alto a destra viene salvata in questo registro qui temporaneo vedete qui ho ricevuto due messaggi posso cancellarli tutte e due cancellarne magari uno faccio così ne tengo lì uno perché mi fa comodo di averlo lì oppure le cancello ecco questo qui se siete lontani dal pc non vi perdete nessuna notifica potete vedere da quando siete stati via cosa è successo sul vostro pc anche questa fa parte di un repository ppa esterno che è il notification cos'è poi questo è l'ubuntu 1 notification e avanti così questi indicatori sono molto molto utili e li trovo almeno per me ovviamente ripeto io vi faccio vedere quello che ho fatto io poi se uno serve voilà poi quello che ho già avuto modo di spiegare in lungo e in largo nel mio video precedente questo è il fatto che ho tolto i driver proprietari delle schede Nvidia e sto utilizzando quelli open source e progetto nouveau ne ho parlato ampiamente nel mio video precedente appunto come registro il titolo del video è come registro i miei video terza puntata di driver Nvidia quindi andate a vedervi questo video se volete maggiori dettagli su questo punto che è una scelta importante ecco il recall ecco qua ho installato recall per la ricerca testo pieno dei miei documenti ecco recall l'ho già presentato anche qui in dettaglio in un video precedente ancora una volta quindi andate a scorrere il mio canale trovate quello che parla di recall e capirete cos'è è uno strumento che venite di cercare a tutto campo nella vostra home anche dentro i documenti quindi potete trovare tutte le vostre cose anche se non vi ricordate più dove avete messo qualcosa se vi ricordate cosa dovrebbe contenere quel documento lo cercate con recall e lui ve lo trova ecco la diciamo che l'interfaccia di recall qui non ce l'ho più direttamente qui sulla dash ma vediamo un po' recall eccola qua questa qui è scacchi quindi questa qui è il programma proprio recall adesso appena si apre eccolo qua e qui nel campo mettete dentro qualsiasi cosa e lo cercate tipo Aramacao cercate Aramacao e vedete che vi trova i miei soliti pappagalli le immagini di esempio vedete Aramacao giallo Aramacao rosso vedete che ve lo trovo e quello che quando ho parlato delle lens vi ho detto che c'era quella per recall ed eccola qui con la sua icona quadretti anche qui se cerco Aramacao mi trova le stesse cose vedete mi trova quelle che abbiamo trovato prima col programma quindi anche senza aprire il programma posso cercarmi con recall le varie cose potete anche filtrare per tipo di file che state cercando ecco questo chiude il cerchio con le lens recall e che cos'è potete andare a vederlo nel video specifico poi ultimo punto ho aggiunto alcune pratiche estensioni per Nautilus che sono già presenti nei ripositori anche ancora una volta via PPA aggiuntivi ecco i PPA aggiuntivi credo che per vostra comodità posso elencarveli nel commento del video così magari non dovete andare a cercare chissà dove ve li elencherò così andate a colpo sicuro se avete interesse ad aggiungere le stesse cose che ho aggiunto io comunque ho aggiunto alcune pratiche estensioni per Nautilus cosa intendo Nautilus è il nostro file manager e per esempio ho aggiunto ho installato GNOME Sushi ecco GNOME Sushi è permette con il tasto destro scusate con il tasto spazio quindi quello grande della tastiera permette di ottenere delle anteprime di molti tipi di file senza dover aprire l'applicazione specifica per esempio questa è un'immagine io faccio premo spazio mi si apre l'anteprima dell'immagine che posso anche ingrandire a tutto schermo o rimpicciolire senza dover aprire il visualizzatore delle immagini o Gimp o che ne so qualsiasi cosa ripremo spazio e si chiude l'anteprima vedete veloce e comoda spazio mi fa vedere l'anteprima e chiudo questo vale sia per le immagini che magari anche per una cartella vi dice perlomeno come è grande la cartella e cosa contiene la cartella eccetera eccetera vedete e vale anche per pezzi di musica per video di vari formati eccetera eccetera adesso vi ho fatto vedere solo il principio di funzionamento ma vale appunto per un esteso numero di documenti pdf compresi eccetera eccetera ecco questo è così anteprime diciamo senza star lì a far doppio clic e aspettare che si apra l'applicativo specifico spazio chiuso spazio e avete visto l'anteprima poi per il tasto destro su Nautilus ho aggiunto questi queste opzioni che fanno parte di pacchetti già presenti nei repository che anche qui vi metterò nei commenti set embleme ecco con arrivare il GNOME 3 cioè passando la nuova versione di GNOME si è persa la possibilità nelle proprietà di aggiungere un simbolino vedete non c'è più non c'è più la scheda per poter aggiungere un simbolo quello che si poteva fare sia cartelle sia file veniva messo qui tipo questo vedete il visto di Ubuntu 1 sincronizzato è un simbolo questo simbolo è stato aggiunto da Ubuntu 1 ma noi non abbiamo più la possibilità di aggiungerne di nostri ecco invece con con questa aggiunta set emblem io posso ancora farlo e se faccio tasto destro in Nautilus con su file vedete che appare set emblem schiaccio set emblem mi si apre una finestrella che ci metto un attimo caricare le varie icone disponibili e io posso sceglierne una e dire ok voglio aggiungere questo emblem e faccio apply e lui me lo aggiunge non me lo fa vedere subito perché devo fare il refresh della finestra ecco va vedete che è apparso il mio smile qua e questo è molto comodo per per suddividere magari dei file a seconda di uno stato di cui ci stiamo occupando di quei file magari ci stiamo lavorando e possiamo anche mettere dei simboli che per noi significano che ne so file all'inizio file finito file inbozza ecco può essere comodo quindi set emblem avete visto che cosa succede poi open as root è molto comodo se ho bisogno di aprire una cartella in modalità amministratore root quindi senza dover andare a posizionarmi col terminale a fare sudo o qualcosa se vado su una cartella open as root mi chiede la password adesso faccio annulla e mi aprirebbe questa cartella in un'altra finestra però con autilus in modalità amministratore questo permette di leggere e scrivere nelle cartelle di sistema se c'è bisogno ma fatelo con attenzione però è pratico averlo lì subito col tasto destro è fatta open terminal here permette appunto di aprire il terminale già posizionato in una certa cartella se serve si fa open terminal here apre il terminale vedete che è già posizionato in questa cartella può essere comodo e utile anche questo poi c'è l'ultimo must rename che se serve se seleziono almeno due file o due cartelle faccio tasto destro appare must rename che è la possibilità di rinominare in massa due o più file quindi gli si dà un certo modello che si può vedere anche l'anteprima andate poi a vedere i dettagli e si può modificare il nome in massa dei file invece di farlo 1-1 ovviamente ecco ho terminato come ho detto nei commenti cercherò di mettere un po' tutti i riferimenti che possono essere utili per replicare le stesse impostazioni che ho fatto io spero che qualcuno possa aver ridato uno spunto interessante anche a voi vi ringrazio per l'attenzione vi saluto e alla prossima